Amen. Gloria a Dio. Vogliamo pregare ancora nella presenza del Signore. Vogliamo invocare insieme il nome di Gesù Cristo per essere rivestiti della sua presenza, della sua luce. Amen. Gloria al Signore. E' scritto in Atti, capitolo 6, verso 15, che tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, avendo fissati gli occhi su di lui, cioè su Stefano, videro il suo volto simile al volto di un angelo. Fratelli Stefano era un uomo come noi. Era un uomo con le nostre stesse debolezze e sicuramente imperfezioni. Ma lui era rivestito della grazia di Gesù Cristo. Amen. E quando i suoi oppositori lo vedevano, non vedevano un uomo carnale, ma vedevano l'uomo spirituale, videro il suo volto come il volto di un angelo. Videro la luce di Gesù nel viso, nel volto di Stefano. Cosa vedono le persone in noi? Cosa vedono le persone sul nostro viso? Vedono ancora l'uomo carnale? Il carattere carnale? Vedono ancora l'immagine dell'uomo vecchio? Cosa vedono le persone quando guardano noi? Fratelli, è tempo che ci rivestiamo della presenza, della pienezza, della grazia di Gesù Cristo. In questo momento vogliamo ancora rivestire le armi della luce, fratelli. Amen. Rivestire l'intera armatura. Gloria al Signore insieme nello spirito. Vogliamo combattere il buon combattimento della fede e afferrare la vita eterna. La vita eterna è la presenza di Gesù Cristo in noi. Alleluia, la potenza della vita indissolubile, della vita indistruttibile, della vita spirituale, della vita di risurrezione, la nuova vita in Cristo. Afferriamola per fede, fratelli, e rigettiamo tutto ciò che è carnale, terreno. Amen. Mettiamo da parte ogni pensiero. Alleluia. E rivestiamoci di Cristo. Rivestiamoci dell'uomo nuovo. Rivestiamoci dello spirito. Amen. Lo spirito di Dio. Amen. Ben è scritto ancora in Colossesi, capitolo 3, verso 12. Vogliamo leggere ancora questi versi per rivestirci insieme. Mediante la fede, mediante la preghiera, nel nome di Gesù. Disponiamo i nostri cuori. Umiliamoci al cospetto del Padre, insieme in questa preghiera di fede. Alleluia. Per essere ancora rivestiti delle armi della luce, dell'intera armatura di Dio, dello spirito di Dio. Colossesi 3, verso 12, dice «Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, diviscere di misericordia, alleluia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza». Qui la parola ci insegna, ci esorta a rivestirci di queste virtù, fratelli, perché noi siamo eletti di Dio, siamo stati scelti dal Signore e non possiamo più camminare come gli uomini del mondo. Allora abbiamo bisogno di rivestirci della natura di Cristo, dello spirito di Cristo. E questo, fratelli, è possibile tramite la preghiera, tramite la fede, nella presenza del Signore. Alleluia. 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 Rivestitevi come eletti di Dio. Poi al verso 13 dice «Sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi, se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi». Amen? Dobbiamo rivestirci dell'amore, come dice il verso 14, «Sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione». L'amore, fratelli, è la natura di Dio. L'amore è la natura dello Spirito Santo. La carne, la nostra natura umana, non ha amore. La natura umana è piena di odio, di rancore, di vendetta, di sentimenti cattivi, di mancanza di perdono, invidia, eccetera, eccetera. La carne produce morte. Allora, fratelli, vogliamo rifiutare ogni sentimento, ogni pensiero della carne. In questo momento vogliamo rigettare tutto ciò che è carnale, terreno del vecchio uomo e vogliamo rivestire la natura di Cristo, vogliamo rivestirci, alleluia, dell'uomo nuovo, vogliamo rivestirci dell'amore, che è il vincolo della perfezione. In questo momento uniamoci nello Spirito, nella fede. Cari fratelli e sorelle, questo è un momento accettevole. È una nuova opportunità che il Padre ci concede per rivestirci, alleluia, della Sua presenza e per allontanare da noi ogni sentimento, ogni pensiero carnale o diabolico che cerchi di infiltrarsi nella nostra vita. Uniamoci in fede, fratelli. Andala, Masciaia! Rebeketeria, Soi, alleluia! Uniamoci nello Spirito, alleluia! Tutto è possibile a chi crede! Alleluia! In questo momento, a me, la tua vita può cambiare, può essere trasformata, può essere liberata da ogni sentimento dell'uomo vecchio, della carne, da ogni dardo del diavolo. La tua vita può essere liberata, la mia vita può essere liberata. Alleluia! Uniamoci in fede! Uniamoci nello Spirito! Afferriamo per fede queste verità spirituali, queste virtù, e rivestiamoci come eletti di Dio. Alleluia! Alleluia, Padre! Nel nome di Gesù ci umiliamo al tuo cospetto e prima di tutto ti chiediamo ancora perdono per ogni peccato, per ogni mancanza, Signore. E ti chiediamo lavaci, purificaci col sangue dell'agnello, quel sangue prezioso che ci giustifica, che ci santifica. Alleluia! Che purifica le nostre coscienze da ogni opera morta, affinché possiamo servire te, che sei l'iddio vivente, l'iddio santo. In questo momento ti prego, santifica ogni fratello, col sangue di Gesù. Padre, santifica ogni sorella, col sangue di Gesù, santifica ognuno di noi. Liberaci, Signore, da tutto ciò che è carnale, terreno, diabolico, Signore. Da ogni, Signore, astuzia del nemico, Signore. Purificaci internamente, Signore, nel cuore, nell'anima, nella mente, nella coscienza. Alleluia! Alleluia! che la potenza salvifica, la potenza santificante del sangue dell'agnello, del sangue di Gesù, penetri nelle profondità del nostro essere. Alleluia! Purificando, Signore, illuminando, liberando, andala, mashalamatai, keramalai assui. Alleluia! Purificaci da ogni cattivo pensiero, da ogni cattivo sentimento, da ogni concupiscenza, da ogni impurità. Signore, qualsiasi cosa carnale che ci sia nelle nostre vite, noi la rigettiamo nel nome di Gesù e scacciamo via! Alleluia! Ogni pensiero, ogni, Signore, ogni dardo del nemico lo spegniamo mediante la fede. Alleluia! Per mezzo della fede ci uniamo in fede, Padre, coi fratelli e le sorelle che in ogni luogo ti stanno pregando, in ogni luogo, Signore, sono lì prostrati davanti a Te. Alleluia! Nel nome di Gesù ti prego, Padre, Alleluia! 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 In questo momento, Signore, liberaci da ogni contaminazione, da ogni macchia, da ogni ruga, Signore, nel nome di Gesù! Alleluia! Alleluia! Per fede, Signore, ci spogliamo, rigettiamo ogni cosa del vecchio uomo, ogni cosa alleluia, malvagia, Signore, di questo mondo e ti chiediamo purificaci completamente, lavaci completamente, Signore! Alleluia! Siamo qui arrese ai Tuoi piedi perché sappiamo che solo ai Tuoi piedi abbiamo la purificazione, abbiamo la redenzione, alleluia, i piedi di Gesù Cristo il Risorto, abbiamo la vittoria contro il peccato nel nome di Gesù, Signore, ci prostriamo davanti a Te, alleluia, rivestici dell'uomo nuovo, rivestici della completa armatura, per fede ci rivestiamo, per fede indossiamo l'intera armatura di Dio, l'Onnipotente, alleluia, rivesti i miei fratelli, rivesti le mie sorelle in questo momento dovunque si trovano strappa via nel nome di Gesù ogni pensiero malvagio, ogni pensiero negativo, ogni pensiero di sporcizia, di iniquità, di peccato, Signore, strappalo, alleluia, ramalai ashecatai, revedei, shikatarabakaia, scacciamo via ogni pensiero malvagio nel nome di Gesù, alleluia, ci rivestiamo della mente di Cristo, ci rivestiamo dello Spirito di Cristo in questo momento, ci rivestiamo, Signore, della Tua grazia, della Tua presenza, della Tua virtù, alleluia, del Tuo amore per fede, Signore, ci rivestiamo della Tua presenza, oh Signore, nel glorioso nome di Gesù, alleluia, mettiamo l'elmo della salvezza, la corazza della giustizia, alleluia, ramalai, secatarabatere, bescerebere, kendere, rebe, alleluia, alleluia, che ogni mio fratello, ogni mia sorella siano fortificati con potenza per mezzo del Tuo Santo Spirito, Padre, nell'uomo interiore e che ognuno, Padre, si possa alzare da questa preghiera con nuove forze nel nome di Gesù, alleluia, 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 nel nome di Gesù, rinnova, Padre, la Tua chiesa, in ogni luogo, Padre, facci camminare nello Spirito, nella fede, nella vittoria, di Gesù Cristo, aiutaci a camminare nella vittoria, alleluia, nella luce della Tua santa parola, Padre, alleluia, ti amiamo, grazie, Signore, ramalasherebekai, alleluia, 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 riempi di Spirito Santo i Tuoi figli, le Tue figlie, in ogni luogo, Signore, soccorri ognuno, e dai vittoria a ognuno, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, alleluia, benedetto in eterno, amén, 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 alleluia, nel nome di Gesù, dichiariamo la potenza di Dio, la potenza dello Spirito Santo, la potenza di Cristo risorto, dichiariamo, alleluia, su di noi, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, fiumi di acqua viva, nel nome di Gesù, alleluia, alleluia, amén, amén.